Di condivisibile nel progetto della Regione Abruzzo c'è solo il preambolo, tutto il resto sarebbe da riscrivere da capo. L'oggetto delle critiche delle associazioni ambientaliste è la gestione dei corsi d'acqua e gli interventi di manutenzione fluviale e compensazione immaginati dalla Regione Abruzzo. Secondo WWF, Legambiente, CRF, Pronatura e Società Erpetologica Abruzzo e Molise, le soluzioni indicate non sono affatto sufficienti, non possono essere univoche e non possono limitarsi alla necessità di pulire gli alberi. Perché in caso di intensi eventi alluvionali sempre più frequenti, quello della rimozione di alberi e sedimenti è un falso rimedio scientificamente infondato e che invece produce un rapporto costi-benefici molto discutibile. Il progetto di legge della Regione Abruzzo si concentra su una visione localistica e non integrata, guarda agli effetti dei fenomeni ma non affronta le cause. Non possiamo pensare di ragionare localmente senza una visione di sistema ma soprattutto non possiamo immaginare che alle emergenze del momento si risponda con una legge che non sia in grado poi di sviluppare una giusta pianificazione. Tra l'altro ci sono violazioni delle direttive europee quindi noi chiediamo al Consiglio regionale di prendersi il tempo necessario per fare una buona legge. Perché questo significa anche mettere in campo le azioni necessarie per mitigare e adattare il cambiamento climatico che è in corso e che purtroppo stiamo subendo con una forza importante. Dobbiamo mettere una maggiore attenzione a quei beni che un tempo non erano definiti scarsi. L'acqua, l'aria e il suolo avevano una valenza illimitata. Oggi non è più così. Sia per un uso scorretto per l'inquinamento ma anche in virtù dell'emergenza climatica che stiamo attraversando. La crisi idrica è uno degli elementi centrali anche delle sfide del futuro. Ancora più pesante se vogliamo della crisi energetica che stiamo attraversando. Ecco perché ci vuole una maggiore attenzione soprattutto nell'impostazione delle leggi di riferimento perché dobbiamo tenere le azioni locali dentro una visione globale che oggi ha delle sue criticità e ci porta anche ad una visione di sistema più allargato.